Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar erogare servizi online. Come sapete questo è il nono appuntamento del ciclo di 11 seminari che si chiama competenze digitali per la pubblica amministrazione dal syllabus alla formazione. Con questi seminari vi teniamo compagnia in qualche modo tutti i martedì a partire dal mese di maggio e arriveremo sino al 28 luglio. Dopo quello di oggi avremo ancora due webinar e saranno sulle competenze dell'area 3 sicurezza, poi in chiusura vi dirò meglio i particolari. Come sapete qual è l'obiettivo di questi webinar? L'obiettivo è quello di affrontare in qualche modo il tema dello sviluppo delle competenze digitali della pubblica amministrazione. Come sapete esiste il syllabus che è un sistema integrato che prevede a partire dall'identificazione delle competenze digitali che tutti i dipendenti pubblici non specialisti CT dovrebbero possedere quindi in modo trasversali. Il syllabus quindi identifica le competenze digitali, le suddivide in aree, in livelli di padronanza e prevede che il sistema dia la possibilità di un'autovalutazione delle competenze. Il sistema che è aperto come sappiamo, come sapete bene ormai a tutta la pubblica amministrazione italiana, quindi a tutti i dipendenti pubblici. Il sistema chiaramente è un sistema gratuito perché messo in campo dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Quindi questo sistema prevede la possibilità per tutti di autovalutare le proprie competenze digitali e poi di accedere quindi ad un'attività formativa per colmare i gap. Come sapete quindi al momento alcune amministrazioni, grosse amministrazioni centrali stanno sperimentando il sistema di assessment, quindi di autovalutazione e a partire dal mese di settembre sarà disponibile almeno una prima formazione online completa, una prima offerta formativa completa che sarà gratuita per tutti e alla quale quindi potrete tutti accedere. L'obiettivo di questi seminari quindi qual è? È quello di dedicare intanto ogni webinar a una delle competenze, le competenze individuate nel syllabus sono 11, per questo 11 sono i seminari. In questi seminari i relatori sono proprio le persone che hanno contribuito a scrivere anche i tessi, insomma dei materiali formativi e l'obiettivo del webinar è proprio affrontare i temi delle competenze, vedere soprattutto perché queste competenze oggi sono importanti per la pubblica amministrazione, per i funzionari pubblici, fornire anche degli spunti e avere anche dei materiali attraverso i quali voi potete anche, i materiali sono sempre resi disponibili dai nostri relatori e quindi li trovate nella scheda di eventi PA insieme alla registrazione dei webinar, attraverso questi materiali voi potrete anche iniziare ad approfondire alcuni temi. L'obiettivo dei seminari quindi non è essere esaustivi rispetto a tutto quello che viene trattato nella competenza, lo sapete non sarebbe possibile in 45 minuti e quindi tutto il resto si farà poi con la formazione. Veniamo quindi a parlare del webinar di oggi, come sapete siamo sempre nell'area 4 che è l'area servizi online e parleremo di erogare servizi online, quindi la volta scorsa abbiamo visto in qualche modo, vi ricordate abbiamo parlato di speed, delle possibilità che sono offerte ai cittadini per avere un unico sistema di autenticazione per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni. Oggi cosa vedremo? Vedremo in particolare cosa vuol dire erogare servizi online. Sappiamo che è il CAD che attribuisce a tutti i cittadini il diritto di fruire in forma digitale dei servizi online erogati dalla pubblica amministrazione, però vedremo in particolare cosa vuol dire, vedremo anche quali sono i nodi proprio dell'erogazione dei servizi online da parte delle pubbliche amministrazioni e vedremo anche quali sono le piattaforme abilitanti che ha supporto proprio dell'erogazione dei servizi online da parte delle pubbliche amministrazioni. Come sempre in questi seminari avremo anche una testimonianza, oggi avremo la testimonianza dell'Inps, che è una delle amministrazioni centrali che come vi dicevo stanno sperimentando il sistema di assessment e quindi la dottoressa Camilla delle donne dell'Inps ci racconterà proprio come l'Inps sta un po' utilizzando insomma il sistema di sviluppo delle competenze digitali, come ha fatto l'assessment, in quanti hanno partecipato e come ha inserito proprio tutta questa attività che prevede anche la formazione nello sviluppo delle risorse umane. Successivamente avremo quindi l'intervento di Nello Iacono che ci parlerà invece proprio del contenuto della competenza che è erogare i servizi online. Allora come in ogni seminario vi segnalo che la registrazione del webinar e le presentazioni saranno disponibili sulla scheda di eventi PA a partire da questo pomeriggio, che le vostre presenze verranno attestate entro le 48 ore, mentre voi potete da questo momento inserire anche nel box domande e risposte eventuali domande che avesse per i relatori del seminario e alla fine avremo una breve sessione di domande e risposte, quindi potrete mettere sia le domande che riguardano l'intervento dell'Inps e le domande che riguardano l'intervento di Nello Iacono. A questo punto io mi taccio, aspetto a vedere la dottoressa delle donne in video così le passo la parola. Sì, allora buongiorno a tutti, grazie Roberta, sono quindi Camilla delle donne dell'Inps e dell'Inps vedo le slide, ecco qua, perfetto, quindi lavoro all'interno della direzione centrale formazione di sviluppo risorse umane, che è la direzione che poi si è occupata di seguire in prima persona l'adesione alla fase pilota del progetto competenze digitali per la pubblica amministrazione all'interno del syllabus, esperienza che quindi oggi vogliamo condividere con voi. Presento brevemente il nostro istituto che è conosciuto da tutti perché o come pubblici dipendenti o anche come privati cittadini sicuramente immagino che uno di voi si è trovato a confrontarsi con l'Inps. Si tratta però di un istituto veramente molto complesso e che al momento ha più di 27.000 dipendenti, siamo 27.226 è il dato ad oggi e è un istituto che è presente sia a livello centrale con la direzione generale ma è soprattutto anche presente e conosciuto nelle sue sedi territoriali, quindi noi siamo presenti in tutte le regioni con le direzioni regionali che assieme alla direzione generale hanno più una funzione di coordinamento e all'interno dei territori provinciali siamo presenti con le direzioni di coordinamento metropolitano a Roma, Milano e Napoli che sono comunque ancora direzioni di coordinamento, hanno praticamente la stessa funzione delle direzioni regionali, si tratta di realtà complesse e poi veniamo alle sedi che sono quelle più conosciute anche dai cittadini dove ci si rivolge anche per le stanze e quindi le nostre direzioni provinciali in ogni capoluogo di provincia. Camilla chiedo scusa, ti chiederai di avvicinarti un po' al microfono o alzare il volume della voce? Noi lo sentiamo bene ma i partecipanti dicono che sentono basso, ok, prego. Non so se così mi sentite meglio, spero che mi sentiate meglio. Quindi come dicevo le sedi, anche quelle più conosciute quindi sono le direzioni provinciali presenti in ogni capoluogo di provincia e le filiali metropolitane all'interno delle aree urbane più grandi ma abbiamo anche dei territori, delle sedi subprovinciali, le agenzie presenti sia nei territori urbani più complessi e sia all'interno di alcune province. Quindi una presenza molto capillare sul territorio. Per quanto riguarda le caratteristiche, come età media siamo nella media della pubblica amministrazione, quindi anche per noi l'età media supera sicuramente i 50 anni. Però l'Inc negli ultimi due anni, nel 2018 e nel 2019, ha già fatto dei concorsi. Quindi abbiamo delle risorse più giovani. Quindi sono stati assunti nel 2018 col profilo di analisti di processo, consulenti professionali, un po' più di 200 persone e nel 2019, a luglio del 2019, più di 3.000 consulenti della protezione sociale. Si tratta di figure che entrano già altamente professionalizzate anche dal punto di vista delle competenze digitali. ed è importante e continuerà questo rinnovo delle risorse umane. Come tutti sapete, l'Inc eroga ormai servizi e prestazioni esclusivamente in modalità online. in quella che vuole essere una modalità utento-centrica focalizzata sull'utente e fare in modo che tutte le stanze dell'utente siano presidiate in modo completo ed integrato. L'erogazione dei servizi online deve però avvenire, anche perché ci rivolgiamo a un'utenza che potenzialmente comprende tutta la cittadinanza, tutte le fasce di cittadinanza, quindi nel modo più semplice, inclusivo ed accessibile. Per questo quadro complesso di riferimento, quindi per noi è stato importante aderire fin da subito a tutti i progetti previsti per l'implementazione delle competenze digitali e quindi in modo particolare anche con funzione pubblica per questo progetto che si riferisce proprio alle competenze digitali di base del pubblico funzionario. E questo anche per un motivo quasi mi viene da dire storico, l'Inc ha sempre riconosciuto un ruolo fondamentale all'innovazione tecnologica e digitale. Poi era emersa anche prima poi dell'ultimo periodo che ha reso questa consapevolezza sicuramente più forte l'esigenza di implementare nel personale le competenze digitali e quindi tant'è vero che l'Istituto è impegnato su diversi progetti, è impegnato a 360 gradi. Per esempio i nostri dirigenti al momento sono impegnati in un corso sulla trasformazione digitale tramite il Politecnico di Milano, proprio nei giorni scorsi è stata stipulata una convenzione per condividere, mettere in sinergia gli obiettivi e gli strumenti di digitalizzazione, quindi l'impegno dell'Istituto è su diversi fronti. E ci sembrava particolarmente utile lo strumento del test di assessment messo a punto da funzione pubblica perché consente di avere un test di assessment unico per tutti e consente un confronto non solo al nostro interno ma anche con tutto il mondo della pubblica amministrazione. Come abbiamo organizzato la fase pilota? È stata organizzata con un gruppo molto ristretto di persone, eravamo in 20 quindi abbiamo lavorato insieme, però il gruppo è già nato per motivi che vi ho esposto all'inizio, quindi per la struttura dell'Inps è nato il gruppo integrato centro-territorio, quindi anche se pochi però eravamo provenienti sia dal centro che da una regione. I due ruoli che abbiamo voluto coinvolgere in questo assessment sono stati quindi la formazione e per quanto riguarda il centro anche la comunicazione istituzionale. perché immaginiamo che sicuramente questi sono i due ruoli che avranno un ruolo chiave nel portare poi avanti questo progetto anche nella sua fase definitiva e non solo nella fase pilota. Quindi prossimi step per noi prevediamo quindi sicuramente di presentare e somministrare il test a tutto il personale anche se in fase successive perché i numeri che vi abbiamo detto all'inizio chiaramente non ci contendono un invio unico o massivo. E per tutti comunque è prevista la formazione a livello base e sicuramente da questo punto di vista ci saranno anche utili i corsi in e-learning che Fornet piasserà a disposizione. Poi il tutto sarà ovviamente integrato anche perché all'interno appunto di 27 mila persone abbiamo dei ruoli molto diversi che vanno dall'informatico, dal dirigente al funzionario, quindi anche le diverse competenze devono essere possedute con gradi diversi e quindi sicuramente l'istituto interverrà sia con risorse interne e esterne che sta già lavorando in questo senso per integrare l'attività formativa in modo insomma che ogni figura professionale abbia un livello di conoscenza delle competenze digitali adeguato, adeguato al ruolo. E quindi la fase è stata molto, sì per noi molto coinvolgente perché essendo anche pochi eravamo all'inizio molto curiosi anche perché abbiamo fatto il testo senza informarci preventivamente su che cosa c'era stato chiesto. Mentre la prima volta l'abbiamo fatto tutti insieme proprio in un'unica, anche in un'unica stanza era il periodo ovviamente prima dell'emergenza Covid, però poi ognuno di noi ha voluto sfruttare l'occasione di ripeterlo, avere le tre opportunità di ripeterlo, insomma. È stata un'esperienza molto coinvolgente e quindi adesso che la dovremo estendere a tutto il personale però siamo sicuri che lo strumento è valido. E quindi vi ringrazio anche per l'attenzione e per averci dato la possibilità di condividere questa esperienza. Perfetto, grazie molto Camilla, grazie a voi per avercela raccontato, insomma chiaramente la situazione anche delle piccole pubbliche amministrazioni sarà molto diversa però è un modo intanto, voi avete iniziato coinvolgendo poche persone, facendo questa sperimentazione e poi l'allargerete anche agli altri. Perfetto, allora grazie molte Camilla, io a questo punto darei la parola a Nello Iaco, col quale entreremo nel vivo della competenza di oggi, quindi chiedo a Nello, perfetto, ti vedo, allora adesso mettiamo le slide e io ti passo la parola Nello, prego. Grazie, spero che mi sentiate. Parleremo oggi di erogare servizi online, cercando appunto come diceva Roberta di andare un po' a capire quali sono i punti principali su cui lavorare. penso, spero che l'audio sia corretto. Tinello, ti confermo che l'audio io lo sento molto bene, a me sembra anche perché hai il microfono e confermano i partecipanti che va bene, prego. Ok, allora, quindi vedremo oggi un pochettino un po' quali sono i temi principali sui servizi pubblici online e poi andremo a fare una panoramica di quelli che invece saranno i contenuti dei moduli formativi legati appunto a questa competenza e andremo a vedere quali di questi contenuti sono pensati per i moduli formativi del livello base, quali quelli intermedio e quali invece pensati e indirizzati a livello avanzato di competenza. Per cui iniziamo con i nodi principali dei servizi pubblici online. Iniziamo partendo guardando i numeri. I numeri dicono che, questi sono i dati dell'e-government benchmark, dicono che il 67% è l'indice di digitalizzazione dei servizi pubblici, quindi siamo in linea con la media europea che è del 68%, quindi dal punto di vista del modo con cui i servizi sono offerti, dal punto di vista della digitalizzazione, secondo la Commissione europea siamo nella media. Questo ovviamente non dice quanto si può semplificare di più l'accesso dei servizi, quanto possono essere migliorati, ma che effettivamente il digitale è entrato nella realizzazione dei servizi pubblici. Il neo è il nodo da affrontare invece relativo all'indice di penetrazione, quindi quanto sono effettivamente utilizzati poi i servizi pubblici online e l'indice di penetrazione è uno dei più bassi in ambito europeo, il 28% contro una media del 57% e dal rapporto DESI, quindi con i dati Eurostat rilevati nel 2019, abbiamo un altro dato molto sconfortante che è quello comunque su cui lavorare, che è quello per cui solo il 32% degli utenti internet usufruisce attivamente dei servizi di government, cioè sono coloro che hanno detto che avendo bisogno di utilizzare dei servizi digitali lo hanno fatto davvero. E quindi come vedete nel grafico la situazione dell'Italia è in leggera regressione, questo perché è aumentata la popolazione che utilizza internet, ma non quella che utilizza i servizi pubblici digitali. Ovviamente se andiamo a guardare quali sono i benefici, e tra l'altro questo è anche l'indirizzo che ovviamente ha spinto anche a dare un maggiore sostegno ancora alla digitalizzazione nell'ultimo decreto legge semplificazioni, i benefici sono tanti, dal punto di vista dell'utenza cittadini e imprese possono ovviamente utilizzare i servizi da casa in modalità remota comunque, quindi limitando l'onere di recarsi negli uffici, avendo dall'altra parte la possibilità di avere risposte anche immediate, ma anche grazie al digitale di avere una maggiore guida di quella che può essere invece la compilazione di domande, istanze in cartaceo o almeno parzialmente. Per l'amministrazione significa ovviamente un gran risparmio di tempo, ma anche una possibilità di utilizzare meglio i dati di cui si hanno disponibilità e una maggiore possibilità di controllare ovviamente se ci sono errori in fase di emissione, quindi sicuramente i benefici sono notevoli. Gli ostacoli su cui lavorare che sicuramente sono all'interno delle iniziative che in questo momento si stanno avviando da parte della pubblica amministrazione sono da un lato a livello organizzativo, ovviamente i servizi pubblici sono semplici e utilizzabili, quanto più questi riescono ad uscire fuori dalla logica organizzativa dell'amministrazione e invece si rivolgono molto di più alla logica delle esigenze degli utenti, quindi cittadini e imprese. Quindi sicuramente è un problema organizzativo da affrontare, quello dei silos per cui magari ciascuna organizzazione, ciascuna amministrazione pensa al proprio servizio senza nativamente pensare all'integrazione e quindi sicuramente il passaggio dalla centralità dell'amministrazione a quello del cittadino è una delle cose più importanti da fare sia dal punto di vista organizzativo che culturale. E poi c'è il tema delle competenze che può permettere questo passaggio, sia a livello di amministrazione sia a livello di cittadini. Le piattaforme abilitanti sono negli ultimi anni una strada che ha intrapreso la pubblica amministrazione che facilita la possibilità di avere dei servizi più semplici da utilizzare ma anche omogenei sul territorio e che quindi siano pensati proprio per gli utenti. e quindi con le piattaforme abilitanti che via via iniziano ad essere sempre più consolidate e sempre più utilizzate dalle pubbliche amministrazioni, il che non è del tutto scontato nel momento in cui parte un cambiamento, possiamo pensare di raggiungere molto più rapidamente i vantaggi di cui si è detto. E la base del percorso delle piattaforme abilitanti è poi anche quello di concepire il servizio sulla base di una reale integrazione dei dati a disposizione dell'amministrazione e quindi poter realizzare alcuni obiettivi come appunto quello dell'attuazione del principio del once only per cui l'amministrazione può chiedere al cittadino soltanto una volta i dati e poi a quel punto è l'amministrazione che capisce in quale contesto devono essere utilizzati senza richiederli ogni volta al cittadino diventa appunto attuabile e fondamentale. Come piattaforme abilitanti via via se ne stanno realizzando sempre di più e che riescono anche a supportare la parte di infrastruttura dei servizi e quindi parliamo dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, parliamo di speed, di fattura PA e di pago PA, quindi fatturazioni elettroniche e pagamenti elettronici di cui parleremo più in dettaglio per questa competenza nei moduli formativi di questa competenza, poi ovviamente carte di identità elettronica, noi PA e anche il sistema per la gestione dei documenti della pubblica amministrazione. ci concentriamo su fattura PA e pago PA perché sono anche le piattaforme che rispetto alla competenza di cui stiamo parlando delle redazioni dei servizi online sono più attinenti e quindi daremo un focus particolare a questo. Per cui iniziamo la nostra panoramica rispetto ai contenuti che troveremo poi nei moduli formativi. A livello base si è scelto di partire dai principi, quindi da un lato dall'importanza del perché parliamo di una estensione, una diffusione dei servizi pubblici e perché online perché ci preoccupa il fatto che il livello di utilizzo sia così basso, per arrivare pian piano a tutti gli adempimenti che devono essere fatti anche da parte dei dipendenti della pubblica amministrazione per favorire effettivamente l'utilizzo di questi servizi e quindi andiamo via 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 nei vari livelli di competenza anche a esaminare dei temi sempre più di dettaglio e di approfondimento. Il diritto all'accesso ai servizi identificati dal CAD e che quindi iniziano ad essere sempre più significativi è un diritto importante che si coniuga proprio con il diritto alla cittadinanza digitale e in questo contesto proprio alla cittadinanza e come si ottiene? Si ottiene da un lato agendo sulla semplicità dei servizi, quindi sul fatto che i servizi possano essere usabili, accessibili, integrati, quindi anche a livello di dati, non soltanto con un'attenzione all'interfaccia presente ma anche a tutto il processo che c'è dietro e dall'altra parte agire anche però sul superamento di tutti i digital divide, quindi sia infrastrutturali sia anche anche quelli culturali. Pensando che siamo in un contesto in cui ancora a fine 2019 la popolazione che non ha competenze digitali di base nella fascia 16-74 anni in questo momento è di 26 milioni, quindi è la maggioranza della popolazione. Il modo con cui si possono affrontare il tema della diffusione appunto dei servizi online passa anche attraverso il corretto modo di pubblicare, rendere fruibili moduli e formulari online perché è anche il modo attraverso cui si inizia spesso una istanza e quindi si inizia a interloquire con la pubblica amministrazione, quindi sono importanti perché ovviamente anche nei piccoli procedimenti sono alla base. e quindi è importante che questi moduli formulari siano pensati nella logica di rispettare alcuni requisiti basi, quindi abbiamo inserito alcuni, poi ovviamente nei moduli formativi troverete molto più dettaglio, però ad esempio la fruibilità, il fatto che sia facile da compilare un modulo che sia chiaro, che sia evidente, quali sono le informazioni che devono essere inserite, che sia accessibile, ancora purtroppo alcune amministrazioni non hanno messo online moduli che possono essere accessibili da tutti, quindi con formato ad esempio PDFA, quindi tali che anche il non vedente possa con dei dispositivi utilizzarli, così come la reperibilità è importante, quindi dove inserisco il modulo perché possa essere facilmente trovato è anche un tema fondamentale e questo riguarda e in qualche modo si inserisce nel tema più generale del come si concepisce l'interfaccia di un sito di servizi verso l'utente e dall'altra parte è importante non cadere in alcuni errori come quello della incompletezza, cioè non chiedo tutte le informazioni che servono per un procedimento, ad esempio se io devo fare una richiesta per un cambio di anagrafica è bene che nei formulari, nei moduli siano previsti tutti i casi perché altrimenti se ad esempio non inserisco il tema della dichiarazione di assenso del comproprietario rischio poi di bloccare l'intero procedimento, quindi incompletezza è importante, è importante la coerenza quindi da mantenere su tutto il processo e quindi tener presente che tutto questo si basa su normative, il decreto trasparenza è stato molto attento sul tema del come si pubblica e dall'altra parte sappiamo che la violazione dell'obbligo è comunque una responsabilità diridenziale, quindi è qualcosa che è normato bene ma più che altro deve rientrare nella cultura, nella sensibilità di tutti quanti. Sempre sul fronte dei moduli di base si affronta il tema della fatturazione elettronica che tra l'altro è una delle delle piattaforme abilitanti che è entrata in servizio da più tempo e adesso si è fermata come pienamente attuata tanto che adesso è iniziata l'attuazione anche sul settore privato. Nei moduli formativi troverete appunto i dettagli delle caratteristiche della fattura elettronica, del formato che deve avere la fattura elettronica e poi soprattutto la logica con cui lavora che è quella specifica di una sorta di postino che quindi prende le informazioni, quindi tutto ciò che viene caricato dal soggetto emittente la fattura e poi lo trasmette ovviamente secondo determinati requisiti al ricevente che è la pubblica amministrazione. Ciascuno dei quali ha degli adempimenti ovviamente sia nella fase di compilazione, di trattamento così come anche di conservazione delle fatture. E appunto la diffusione della fatturazione elettronica al 100% ormai sul settore pubblico ha consentito anche di pensare a un'estensione e un utilizzo anche del settore privato. E quindi l'impianto, l'architettura che è stata definita come piattaforma per la fatturazione verso il pubblico diventa una piattaforma per il paese, quindi diventa una piattaforma che serve a velocizzare, a facilitare anche i rapporti nel privato, sapendo che dietro la digitalizzazione del processo di fatturazione ci sono dei vantaggi molto forti rispetto al trattamento poi contabile di queste operazioni. Quindi sono dei benefici così evidenti e dall'altra parte il peso della pubblica amministrazione è così forte da comunque coinvolgere molti privati e quindi si è passato anche alla fatturazione sul privato. Un'altra piattaforma che si approfondisce nei moduli informativi è quello di Pago.pia, relativa ai pagamenti elettronici. Ovviamente sono importanti i pagamenti elettronici per più ragioni, sicuramente ne abbiamo sentito parlare tanto per il contrasto e l'evasione fiscale, per il tracciamento che permette di dare ai pagamenti e quindi ai flussi finanziari, ma dall'altra parte ci sono dei vantaggi molto importanti per le pubbliche amministrazioni che possono ricevere i vari pagamenti e trovarli già integrati e riconciliati all'interno dei propri sistemi, ma anche per i cittadini e le imprese, perché attraverso i pagamenti elettronici e Pago.pia c'è la possibilità di facilitare, di rendere più semplice, grazie anche ai tanti canali che sono utilizzabili per Pago.pia, i pagamenti elettronici nei confronti della pubblica amministrazione. E quindi un sistema come Pago.pia che dà questa possibilità e dall'altra parte garantisce anche riservatezza, autenticità e inalterabilità dei flussi, permette dall'altra parte appunto di avere un asset importante per qualsiasi tipo di servizio. E quindi in qualche modo è già una spinta alla digitalizzazione nel modo corretto di questi servizi. E' tanto diventata importante questa piattaforma che è stato definito anche di realizzare, di istituire una società pubblica che si chiama Pago.pia che cura anche l'app Io di cui adesso un po' parleremo e della piattaforma nazionale dei dati che tende come obiettivo principale proprio a favorire l'interoperabilità dei dati e quindi tra le banche dati della pubblica amministrazione soprattutto. E quindi siamo all'interno di un processo che sta procedendo abbastanza rapidamente con successo e che dall'altra parte ha avuto una spinta anche dal nuovo decreto legge semplificazione. Quindi si parlerà a livello intermedio più in dettaglio di come funziona Pago.pia quindi a livello dei nodi di pagamenti, quindi dei provider, dei servizi, quindi coloro che poi permettono il pagamento elettronico e i vari strumenti di pagamento e soprattutto appunto la possibilità di avere canali diversi di pagamento quindi dai siti web piuttosto che anche con una mediazione da parte di soggetti come appunto le banche e poi dall'altra parte sapendo che c'è un codice univoco che permette poi la riconciliazione del pagamento. Si entrerà nel modulo formativo anche sul come è definito il ciclo di vita del pagamento quindi dalla necessità del pagamento e quindi dalle informazioni che devono essere inserite e che devono essere quindi fornite poi per l'effettuazione del pagamento e che questo permette appunto di avere poi l'effettiva efficacia del pagamento e la riconciliazione con ovviamente i documenti che motivano il pagamento e quindi con un vantaggio per il sistema di contabilità dell'ente creditorio è ovviamente molto importante perché appunto con pagamenti che vengono da più canali comunque il flusso finanziario alla fine è unico e quindi questo permette anche i controlli e tutto ciò che consegue il pagamento in maniera molto più rapida. Nel livello intermedio quindi diciamo a livello base si parla delle base appunto sia dei servizi sia delle principali piattaforme invece nel livello intermedio si va un po' più in dettaglio rispetto ai requisiti che devono avere i servizi online e quindi quali sono le caratteristiche principali da verificare o comunque che devono essere presenti e che noi dobbiamo conoscere proprio per renderli più fruibili possibili ai cittadini anche dal punto di vista delle informazioni. Le caratteristiche, gli approcci diciamo così importanti per la definizione dei servizi online e che ritroviamo nelle linee guida per il design dei servizi e la pubblica amministrazione sono prima di tutto partire dai bisogni dei cittadini diciamo che il passaggio fondamentale è proprio quello del passaggio appunto dalla centralità dell'amministrazione e quindi di un pensiero organizzativo legato all'interno a una centralità del cittadino per cui si parte dalle esigenze del cittadino per poi integrare dietro tutti i processi dell'amministrazione. E quindi partire dai bisogni dei cittadini, avere massima trasparenza e collaborazione quindi significa ovviamente dare tutte le informazioni ma anche dare la possibilità di dare supporto nel momento in cui ci sono difficoltà nell'andare avanti dal punto di vista dei cittadini nell'utilizzo del servizio. Ovviamente una importanza forte all'utilizzo del digitale in senso rispetto a opportunità che questo può dare rispetto ai processi e quindi pensare anche a una possibilità di cambiamento dei processi questo lo vedremo tra un attimo, la multicanalità ovviamente è importante perché l'avvicinamento ai cittadini significa anche concepire la possibilità che ci siano più canali preferiti a secondo il tipo del contesto, del target ai cittadini bisogna ovviamente misurare, bisogna semplificare e poi anche molto misurare e migliorare quindi stare attenti del perché certi servizi vengono utilizzati oppure appunto se ci sono difficoltà a utilizzarle fino in fondo. La multicanalità abbiamo detto è molto importante e deve essere ben gestita cosa significa la gestione? È quello che in qualche modo abbiamo visto dall'esempio di Pago.pia cioè molti canali di accesso, in quel caso molti canali di pagamento poi alla fine invece il processo è gestito in maniera unica e quindi anche se c'è dal punto di vista dell'utente, del cittadino, dell'impresa la massima flessibilità, c'è dall'altra parte garantita la massima efficienza dall'amministrazione sapendo che poi l'efficienza dell'amministrazione si riflette nella qualità globale del servizio verso gli utenti. In dettaglio si possono definire anche delle caratteristiche poi ovviamente nei moduli formativi si entra anche in dettaglio di alcuni esempi però sono caratteristiche che sono anche abbastanza standard sono legate agli standard che devono avere i servizi in generale nel momento in cui si utilizza il digitale e quindi efficacia, e questo significa appunto funzionalità complete, corrette, appropriate l'esempio del cambio di residenza in cui c'è qualcosa che non viene fornito che poi quindi non permette integrazioni online dell'informazione è ovviamente un punto che riduce l'efficacia del servizio l'utilità che deve essere ovviamente monitorata nel tempo adesso ad esempio abbiamo le credenziali di accesso e quindi i sistemi di accesso di molte amministrazioni che sono parallele al sistema speed e quindi in questo momento c'è questo parallelismo che viene in qualche modo giustificato soltanto perché non si è ancora introdotto il principio dello speed only per cui deve essere soltanto un speed il modo di accedere ai servizi nel momento in cui questo lo sarà e nel decreto legge semplificazione c'è una scadenza nel 2021 su questo è ovvio che tutti i sistemi di accreditamento delle singole amministrazioni non avranno più senso e quindi non saranno più utili fruibilità abbiamo accennato al tema della facile reperibilità del servizio però ci sono anche degli altri elementi importanti tra cui appunto la facilità di apprendimento la comprensibilità quindi il fatto che effettivamente sia semplice da capire quali sono le informazioni per utilizzarla poi c'è il tema dell'accessibilità che si porta dietro un tema più generale che è quello della progettazione universale cioè l'accessibilità non vista come un accessorio quindi prima penso al servizio e poi penso all'accessibilità del servizio ma la progettazione universale quindi penso a un servizio che sin dall'inizio possa dare accesso semplice sia a chi non ha particolare disabilità e chi invece ha qualche limitazione uditiva, visiva quindi l'accessibilità appunto concepita come qualcosa che porta a una progettazione di tipo diverso interoperabilità che sicuramente è una interoperabilità tecnica anche dal punto di vista dei dati ma è anche di significati, di termini che devono essere utilizzati sempre allo stesso modo piuttosto che organizzativi e infine tempestività per capire se queste caratteristiche sono effettivamente realizzate nel servizio ovviamente bisogna chiederlo e quindi il feedback serve chiederlo, misurarlo, capirlo e quindi ci sono diversi modi per riuscire a far sì che appunto questo processo permetta di avere un miglioramento sempre maggiore e quindi c'è un'attenzione sia ai livelli minimi di qualità che appunto devono permettere l'efficacia del servizio sia anche in generale alla valorizzazione del feedback e quindi diciamo c'è una breve panoramica sia su cosa significa ciclo di miglioramento e quindi il passaggio dalla pianificazione all'esecuzione al controllo fino alla identificazione delle azioni di miglioramento e poi anche con un'attenzione al che cosa significa customer satisfaction e quindi quali sono i processi e quali sono le attività che permettono di capire effettivamente quali sono le reazioni o meglio le esigenze che sono in questo momento soddisfatte dal servizio e quelle che potrebbero esserlo meglio e quindi diciamo nel modulo informativi trovate anche qualcosa di molto strutturato rispetto al come concepire la customer satisfaction quindi non soltanto sulla base di un feedback puntuale ma anche con la strutturazione di un percorso di analisi quindi sia di dati sia appunto di feedback e magari di gruppi di popolazione sul fronte intermedio quindi il modulo formativo si completa con un'attenzione non soltanto alle caratteristiche dei servizi ma anche a quali strumenti possiamo mettere in piedi per migliorare questi servizi e quindi anche con percorsi che possono essere a carico della singola amministrazione e su cui ovviamente i vari gruppi che gestiscono i servizi possono dar tanto e quindi sicuramente noi possiamo dare nei diversi contesti un contributo abbastanza importante nella parte avanzata si dà molta enfasi al come realizzare alcuni dei principi di base per i servizi e ne indichiamo tre su cui viene poi rivolta maggiore attenzione mobile first, digital first e once only sono tre principi che troviamo anche ripresi nel piano triennale comunque sono dei principi che sono alla base appunto per i servizi online e nei moduli avanzati vengono approfonditi anche con alcuni esempi soprattutto per appunto riuscire a comprendere quali sono le differenze e quali sono le migliori applicabilità di questi principi mobile first prima di tutto e si puntualizza il fatto che mobile first non significa mobile only nel senso che mobile first significa che io penso prima di tutto alla migliore utilizzabilità del servizio attraverso dispositivi mobili e quindi non penso che come si faceva in realtà qualche anno fa a un servizio prima di tutto che vada bene per il desktop o per il computer e poi cerco di adattarlo al mobile, al cellulare invece è importante pensare che appunto la fruibilità sul dispositivo mobile proprio perché è diffusissimo e in Italia arriviamo al 95% poiché è diffusissimo allora a questo punto significa anche che i servizi devono essere fruibili attraverso il mobile e quindi prima di tutto devo pensare a quel modo di utilizzo e poi vedere appunto sul computer come magari altre funzionalità possono essere utilizzate ovviamente sapendo che lo smartphone ha certe funzionalità che possono meglio essere di supporto al servizio però dall'altra parte ha delle costrizioni, delle limitazioni sulle dimensioni dei contenuti sul linguaggio, sul modo con cui vengono offerti in priorità i pulsanti appunto di navigazione e di attivazione quindi il modo con cui si concepisce sul mobile diventa sicuramente importante perché c'è dietro tutto un tema di accessibilità e usabilità che deve essere preso ovviamente in massima considerazione il fatto che ci sia il principio del mobile first non significa che tutti i servizi vanno bene e sempre e in qualche modo per il mobile ovviamente bisogna anche andare a fare un'analisi del tipo di interazione che viene richiesto dal servizio e quindi quanto è semplice e quanto è complessa e quindi se sono informazioni che io già posseggo parliamo di un'interazione semplice se sono invece delle informazioni che magari devo andare a recuperare da altri documenti e comunque non sono di immediata inserimento da parte dell'utente allora è un'interazione complessa e quindi probabilmente avrò anche delle sessioni più lunghe avrò probabilmente bisogno in alcuni casi di schermi più ampi e quindi probabilmente in quei casi è da capire se andare su una logica di mobile oppure semplicemente andare sul desktop e poi pensare alla modalità che permette poi l'utilizzo anche sul mobile quindi quello che si dice responsive l'esempio dell'appio è un esempio di applicazione che nasce nella logica del mobile only proprio perché vuole realizzare in maniera completa e diffusa tutte le potenzialità che offre lo smartphone proprio per dare una accessibilità semplice e immediata superando anche altri problemi che possono essere dati da procedure un pochettino più complesse che invece con le funzionalità dello smartphone possono essere superate e quindi dall'impronta piuttosto che al near field communication quindi dalla possibilità di dare anche un accesso attraverso carta di identità elettronica senza dispositivi insomma tutto ciò che può facilitare l'utilizzo attraverso mobile quindi l'appio viene concepita in questo modo e poi magari nella sua evoluzione invece potrà essere estesa sull'utilizzo via web una cosa interessante dell'appio è che grazie anche a questa architettura si sposta molto di più sul fronte dell'utilizzo centrato sul cittadino proprio perché le varie amministrazioni entrano nell'appio dando dei servizi come se appunto fossero del tutto trasparenti all'utente, al cittadino che a quel punto vede semplicemente il tipo di servizi a chi accedere il secondo principio è quello del digital first e anche qui quello che viene messo in maggiore risalto è il fatto che non si parla di digitalizzazione dell'esistente ma si parla di opportunità, quindi di fare in modo che il digitale possa essere una leva anche per rivedere i processi ripensare i processi, migliorare il modo con cui ci si rapporta al cittadino e quindi in che modo questo può cambiare un esempio è quello dato dal fascicolo digitale dei cittadini o piuttosto che casa digitale del cittadino o comunque area riservata ai cittadini che sono sempre più messi a disposizione da parte delle amministrazioni in alcuni casi centrali ma molto spesso locali ecco in quel modo si dà un cambiamento reale al tipo di approccio che si ha verso il cittadino nel senso che parliamo di funzionalità che sono di accesso ai dati del cittadino che non potevano essere nella logica precedente analogica se realizzate se non attraverso delle richieste, degli invii, delle email, delle domande addirittura cartacee invece la concezione del digitale ti permette appunto di entrare nella navigazione dei tuoi dati in maniera semplice questo significa appunto andare in una logica di ripensamento del processo attraverso il digitale sicuramente il digitale fest porta anche al tema dell'accessibilità e la progettazione universale di cui abbiamo accennato e diciamo va nella logica di un miglioramento anche continuo del servizio e quindi è importante da questo punto di vista la realizzazione attraverso una prototipazione che permetta di avere precocemente un feedback da parte degli utenti e dall'altra parte il sistema del digital fest deve essere affrontato sapendo dall'altra parte che appunto esiste comunque una carenza di competenze digitali e quindi anche l'amministrazione in qualche modo si deve fare carico del supporto all'utilizzo del digitale soprattutto quando parliamo di switch off sul digitale come è successo ad esempio per le iscrizioni scolastiche bisogna appunto fare in modo che questo switch off sia supportato perché possa avere successo e infine il principio del one solely il principio del one solely è un principio che è stato rafforzato e spinto anche a livello europeo c'è stata una dichiarazione di Tallinn sui principi dell'e-government da sviluppare da parte di tutti i paesi in cui il principio del one solely è stato messo molto in risalto e lo troviamo ovviamente nel piano triennale per l'e-sittine LPA e il principio è appunto quello per cui non posso chiedere più volte i dati al cittadino e quindi l'amministrazione deve fare in modo che ci sia la capacità di interoperare quindi avere un'integrazione tra le diverse banche dati proprio per fornire semplicità nei servizi rispetto ai dati che ho ovviamente l'esempio del 730 pre compilato è uno di questi dove l'onere diciamo così per l'utente è quello della verifica piuttosto che l'aggiornamento e il completamento insomma del servizio le piattaforme abilitanti sono sicuramente una leva importante per questo e dall'altra parte come abbiamo anche visto gli ostacoli organizzativi che devono essere da superare l'ultimo aspetto che viene trattato nei moduli formativi avanzati sull'erogazione del servizio online riguarda i vari livelli di interazione e diciamo che ovviamente il livello zero è quello per cui tutto il servizio è offline e dall'altra parte il livello massimo è quello della completa automazione nell'e-government benchmark europeo è stato inserito anche questo livello e quindi inizia ad esserci una attenzione al fatto che si è molto più efficienti quanto più il processo può essere svolto in maniera automatica utilizzando i dati che già si hanno a disposizione tra questi due estremi ci sono gli altri livelli un primo livello che è una semplice pubblicazione di informazione un secondo livello che è quello della modulistica che serve però soltanto per avviare il procedimento ma non permette di effettivamente avviare il servizio interazione a due vie in cui invece inizia ad esserci la possibilità dell'avvio del servizio fino al livello quattro che è il primo che effettivamente permette di definire un servizio online in cui c'è davvero una transazione in cui il cittadino inserisce delle informazioni e poi dall'altra parte l'amministrazione viene presa in carico l'istanza e il livello 5 personalizzazione che è un passo in più rispetto alla transazione online che è quello in cui l'interrogatore quindi l'amministrazione può anche chiedere stimolare in qualche modo l'utente soprattutto pensiamo nel caso di benefici vari di bonus di cui si ha diritto di sostegni in cui appunto non è il cittadino che parte con la sua istanza ma in qualche modo viene sollecitato proprio perché è tra le cose di cui può avere disponibilità di cui può aver diritto dalla amministrazione. Concludiamo come sempre con alcuni suggerimenti di risorse per approfondire questi temi a livello di politiche generali abbiamo ovviamente il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione i dati che vi ho mostrato di cui abbiamo parlato sono relativi a misurazioni europee quindi qui trovate i link sia al Desi 2020 che all'E-Government Benchmark per quanto riguarda le caratteristiche principali dei servizi facciamo riferimento innanzitutto alle linee guida per il design dei servizi che mette dentro un po' tutti i tipi di indicazioni che devono essere eseguite e che noi troviamo nei servizi per i livelli di interazione dei servizi della pubblica amministrazione vedete un riferimento su qualità PA che qualche anno fa però è ancora abbastanza attuale e importante sulla custom satisfaction trovate qui qualche indicazione sia rispetto ai passi del processo che abbiamo visto prima ma anche a qualche esempio di utilizzo sia appunto in ambito di regione Sardegna sia in ambito del MEF sono dei rapporti sufficientemente recenti da essere interessanti anche da esempio per ulteriori applicazioni per quanto riguarda le piattaforme invece i siti istituzionali sia di fattura PA che pago PA sono abbastanza esaustivi e danno informazioni sia dal punto di vista tecnico sia dal punto funzionale e organizzativo vi ringrazio e spero appunto che questa cavalcata veloce perfetto Nello, allora grazie mille per questa descrizione come hai definito la tua cavalcata veloce allora ci sono sì delle domande che vedi qua nel box che adesso dovresti vedere al centro dello schermo dimmi se le visualizzi bene, chiaramente le domande arrivate io ho cercato di selezionare le principali c'erano alcune che erano dei casi anche un po' personali insomma non si poteva vedi tu a quali ritieni di rispondere, prego grazie grazie l'avete un po' ingrandito così posso vedere meglio allora diciamo che il tema è la prima domanda è perché anziché pubblicare dei moduli da stampare non si prevedono delle domande da compilare con dei campi prefissati dall'amministrazione senza stampare il modello direttamente su piattaforma digitale infatti questo è proprio il senso dei formulari online, dei moduli online, della transazione online che è quello per cui assolutamente è da evitare i moduli da stampare anche perché appunto poi rendono complicato l'onere da parte del cittadino utente per attivare poi il servizio e questo è una delle cose su cui già c'è una spinta anche normativa la fattura elettronica la trasmissione di futuro tutto ciò che riguarda il processo di fattura elettronica così come quello di pagamento elettronico è tracciato e quindi tutte le informazioni sono reperibili nel sistema e sono le informazioni ovviamente necessarie che è il sistema di interscambio che garantisce quindi sono già presenti nella fatturazione elettronica i moduli google potrebbero essere utilizzati sui siti elettrica oppure il loro utilizzo comporta problematiche a livello di privacy in generale sì nel senso che i moduli google possono essere utilizzati per diciamo così piccole interazioni che quindi che in qualche modo sono molto limitate nel tempo e non richiedono di fornire dati quindi appunto in cui ci sia poi il tema della privacy proprio perché diciamo la sicurezza nell'accesso non c'è però ovviamente lì dove c'è necessità di attivare agilmente alcune alcune qualche scambio di informazione soprattutto penso alla customer satisfaction questo può essere chiaramente utilizzato e pago pia sicuramente i vantaggi sono tanti non li ho detti tutti però appunto riusciamo anche col pago pia ad esempio la domanda è tra i vantaggi inserirei anche l'aggettivo intuitivo immediato proprio per l'alta percentuale dei cittadini che mancano di competenze digitali e si sforaggiano nell'usufruire di servizi online e spesso presentano percorsi complessi e non chiari si paga pia sicuramente grazie alla multicanalità ha la possibilità di dare sicuramente un supporto a un po' a tutti i cittadini proprio perché permette di scegliere il canale il canale di utilizzo customer satisfaction ci sono dei feedback già sperimentati in alcuni comuni abbiamo visto alcuni esempi delle regioni sicuramente sì ci sono c'è nessuno a roma capire roma sì ma diciamo che ci sono un po su tutti gli urb questi delle degli esempi su cui su cui lavorare esatto e l'ultima modulistica contestuale protocollazione dell'atto in entrata per avviare il se è un'interazione la modulistica contestuale protocollazione dell'atto in entrata va bene allora direi che con le domande hai risposto a tutto grazie molte nello allora giusto alcune comunicazioni di servizio per la chiusura e allora vi ricordo che il prossimo appuntamento è il quattordi martedì 21 luglio chiedo scusa sul penultimo webinar che è il primo dell'area sicurezza e vi ricordo che la registra i materiali del webinar di oggi sono già disponibili sulla scheda di eventi pia la registrazione sarà disponibile questo pomeriggio e vi ricordo ancora una volta come restare come essere aggiornati su tutte le novità del progetto allora il suggerimento è di iscrivervi alla newsletter il primo numero della newsletter tra l'altro sarà pubblicato tra pochi giorni e quindi sicuramente iscrivendovi alla newsletter avete la possibilità di essere informati anche su tutte le prossime iniziative questa è la home page del sito competenzedigitali.gov.it quindi da questo box vedete questo pulsante vi potete iscrivere alla newsletter l'altro suggerimento è quello di consultare le FAQ che sono già presenti e disponibili sul sito e che noi alimentiamo ogni settimana integriamo con le domande che voi fate durante i webinar e se non trovate risposta alle vostre domande potete fare una richiesta al servizio di helpdesk che devo dire quotidianamente riceve domande e sta rispondendo insomma è già funzionante e riceve anche parecchie domande con questo io quindi vi do appuntamento a martedì prossimo ringrazio i relatori di oggi Nello Iacono e Camilla delle Donne ringrazio tutti voi per la partecipazione arrivederci e buon pomeriggio a tutti ringrazio tutti